momentai ragazzi sono da loro se benvenuti in questo vlog dopo secoli millenni eccoci ritrovati qui come avrete letto dal titolo l'incubo è finito più o meno in questo periodo che tra l'altro dura già da diverso tempo sto avendo problemi con il computer problemi di ogni genere ma come ho detto l'incubo è finito quasi ovvero sono riuscito a comprare un nuovo computer in questo momento è in fase di assemblaggio per cui in una settimana circa dovrebbe essere pronto e operativo per cui ecco cosa accadrà in questo momento ho ben tre serie attive già lo sapete che è zestyria tales of zestyria solo che lo solo che io lo chiamo zestyria per comodità scribble notes e tom raider che ho iniziato da poco per cui la situazione sarà questa io continuerò con le serie attive perché voglio finirle ciò vuol dire che tenderò a spingere molto tenderò a spingere le serie in modo tale da finirle il prima possibile per cui per cui se non faccio cose secondarie missioni secondarie non sto ad esplorare zone nascoste e cose di questo genere è perché voglio finire queste tre serie il prima possibile e una volta finite ovviamente non aspettatevi nuove serie perché appunto poi ci sarà un momento di pausa del canale visto che dovrò fare il switch del computer con quello nuovo una volta che il nuovo pc sarà completamente operativo questa è una cosa che ho già detto più volte le prime serie che inizierò saranno skyrim la versione remasterizzata new gen oppure next gen o come volete chiamarla voi e riprenderemo state of decay che ho abbandonato lì perché veramente era totalmente indiocabile ovviamente lo rinizierò da capo e tra l'altro cercherò anche di iniziarlo meglio e poi dopo chiaramente tutti gli altri giochi che avevo in mente di fare quindi alla fine la programmazione non subisce nessun cambiamento tra l'altro mi ricordo di un paio di persone che mi avevano chiesto se avrei mai portato subnautica fare una serie di subnautica non c'è bisogno di dire che adesso con il nuovo pc tutto è possibile a parte per alcuni giochi in particolare che non li vedrete comunque che penso sappiate già di quali giochi vi sto riferendo ma tutti gli altri giochi è possibile la possibilità c'è e questo è quanto ragazzi io non vedo l'ora che arrivi questo nuovo computer che in una settimana circa dovrebbe essere pronto ripeto è in fase di assemblaggio e così finalmente visto che ho una backlist di giochi di lunga chilometri chilometri anzi forse addirittura anni luce altro che chilometri anni luce per quanti giochi mi sono tra virgolette perso ma adesso avrò occasione di recuperarli tutti e non vedo l'ora facendo occasione anche di farci una serie e niente questo è tutto un piccolo vlog aggiornamento su quello che succederà nei prossimi giorni per cui direi che per questo vlog direi che è tutto vi ricordo che se non siete ancora iscritti canali di iscrivervi se volete rimanere aggiornati sulle nuove serie a questo punto che che verranno sul nuovo pc di mettere un bel pollicione su e mi raccomando di dire anche la vostra nei commenti e noi ci risentiamo a un prossimo video